Abbiamo un territorio che oggi offre molte opportunità, abbiamo delle eccellenze e delle tipicità che appartengono alla nostra terra, non solo su Salerno ma su tutto il territorio e quindi l'obiettivo attraverso questo prodotto, questa piattaforma è di agevolare il turista, il visitatore verso queste eccellenze locali. La piattaforma funziona attraverso diversi canali, totem, app piuttosto che il portale, quindi attraverso il web e può fruire di questa informazione attraverso un nuovo contenitore che andremo a presentare oggi, attraverso cui può calare la propria ricerca anche attraverso un tema specifico. Quindi la diversità rispetto ai tanti portali, canali che oggi esistono, strumenti, noi abbiamo messo in campo uno strumento che adatta il risultato, quindi le informazioni al turista in base a quello che cerca. Per esempio voglio fare un'esperienza intorno alla mozzarella, quindi mi darà tutte le informazioni, i luoghi di eccellenza della produzione della mozzarella. Quindi la forza di questa piattaforma è proprio questo, non dare più informazioni generiche ma cogliere l'interesse del visitatore e costruire una piattaforma intorno a lui nel momento in cui la sta navigando. Concludo su una cosa, su questa piattaforma che si intende l'anno scorso, attraverso cui l'utente avrà le funzionalità di mobilità e trasporto. Quindi il turista che arriva a Salerno saprà come andare in costiera e quindi gli daremo informazioni sul territorio ma anche la possibilità di informazioni dei mezzi di trasporto e relativa abilitazione in molti di questi casi. Quante sono le categorie che avete censito e per le quali è possibile fare ricerca? Allora abbiamo provato a fare un ragionamento collegato un po' ai comuni, quindi i comuni della provincia di Salerno sono quasi un centinaio e collegando ad essi un po' di aree perché la forza di una piattaforma simile è che va su un territorio geografico abbastanza ampio. In questo caso parliamo di circa un centinaio di aree sulle quali possiamo attenzionare e una quarantina di queste sono delle eccellenze campane.